Una grande opera, come si diceva, che creerà anche un grande indotto economico e soprattutto occupazionale, con oltre 1500 addetti. Allora io chiamo per il suo intervento il dottor Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo WeBuild. Che bello essere qua e parlare di lavoro e vedere e sentire 1500 persone che hanno un lavoro. Allora questo è quello per il quale io mi batto tutti i giorni. Il lavoro al centro, le persone al centro, uomini e donne che possano avere non solo un loro futuro ma anche per i loro figli. Pensare che il mondo in qualche modo che hanno creato sarà migliore per i propri figli. Io ho vissuto questo grande sogno dei miei genitori, dei miei nonni, quello di aver fatto un mondo migliore per noi che venivamo. Poco tempo fa ero a Catena Nuova, un tratto tra Bicocca e Catena Nuova della Palermo Messina. E mentre aspettavamo l'arrivo del ministro per inaugurare il lavoro ho chiesto al prefetto. Ho chiesto al prefetto ma che fanno i ragazzi qua? E lui mi ha guardato così sorpreso e mi ha detto niente. Ecco in quel momento mi si è ghiacciato il sangue perché vedevo tre ragazzi seduti su un muretto con uno sguardo vuoto, senza speranza. E ho pensato ma se la mia generazione non è riuscita a fare niente per questi ragazzi, niente, non dargli un futuro, non dargli una speranza, non dargli un mestiere, che ci siamo stati a fare? In che modo verremo giudicati da questi ragazzi, dai nostri figli? E allora dico quant'è importante oggi essere qua per un gruppo che si chiama We Build, cioè noi costruiamo. È un mestiere che si fa con le mani, è vicinissimo a quello della terra, è qualcosa che ti rende umile perché affronti tutti i giorni un lavoro duro, non è un lavoro semplice. Si rischia la pelle, si rischia di essere travolto da incidenti, è un mestiere nel quale bisogna essere sempre attentissimi, la sicurezza al primo posto, per le persone, per quelli che ci lavorano, perché tornino a casa uguali a come sono venuti in ufficio e a come sono venuti al lavoro. È un mestiere duro che avvicina la terra perché il lavoro di quello che facciamo e che tutti i giorni realizziamo nei cantieri, in un certo momento si raccoglie e diventa un prodotto, diventa una strada, diventa un ponte, diventa una metropolitana, diventa una ferrovia e cambia il futuro delle persone, così come il prodotto cambia e dà soddisfazione a chi ha lavorato la terra duramente per riuscire a dare questo e a dare il pane ai propri figli. Un lavoro di questo tipo significa per questa terra 1500 posti di lavoro subito, ma significa anche futuro, significa speranza, soprattutto in un momento in cui questa pandemia apparentemente stupida, all'inizio tutti eravamo scettici, ma come? È impossibile. Un virus ci ha levato in qualche modo le certezze di tutti i giorni. Questi due mesi a casa ci hanno cambiato per sempre. Noi abbiamo mille persone che lavorano da casa, ma quando mai si poteva immaginare una cosa di questo tipo in un mondo normale? È un cambio storico, è un cambio assurdo di abitudini, di organizzazione, di come affrontiamo il lavoro, tutti qua con le nostre mascherine, ma immaginate che significa in un'industria questo, qual è il futuro del turismo, che cosa faranno milioni di persone. Anch'io ho paura di che cosa faranno milioni di persone quando a settembre, a ottobre dovremo affrontare l'impatto di questa crisi. Allora la risposta che dobbiamo dare, la risposta che dobbiamo dare subito è il lavoro, lavoro per le persone. Occasioni come queste di far iniziare dei cantieri, di far partire il lavoro per le persone, sono la risposta che questo Paese deve dare a la gente che è terrorizzata del futuro. Dobbiamo cambiare questa percezione. Un gruppo che si chiama We Build, 70.000 persone nel mondo, lavoriamo in 55 Paesi, riuniamo nomi storici delle costruzioni, tutti insieme, si chiamiamo We Build, per dire che cosa? Per dire siamo quelli che costruiscono, siamo noi. Allora, siamo un'azienda partecipata anche dal pubblico, perché il CDP è entrata nel nostro capitale. Siamo un'azienda che vuole ricostruire questo Paese, portando la sua esperienza, fatta e maturata in tanti posti del mondo, abbiamo costruito dal canale di Panama a tutto, portare qui il discorso di Genova. L'avete visto tutti? Tutti pensano che non si possono fare le opere pubbliche in un Paese come questo. No, è vero, si possono fare. E come si fanno? Con quello spirito, con lo spirito di persone che lavorano insieme per raggiungere un risultato. Noi qua, il Vice Ministro Cancelleri, il Ministro De Micheli, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, i sindaci, dobbiamo lavorare insieme, siamo una squadra. Lavoriamo per il Paese, lavoriamo per le persone che stanno qua, tutti insieme. Saremo giudicati questo, se saremo capaci a raccogliere questa sfida e a vincerla, a dare lavoro alle persone e a realizzare le infrastrutture di cui il Paese ha bisogno. Grazie. Grazie.